Oh Antonio, vi ringrazio per la possibilità che mi avete dato finora, vi sento vicini, vinciamo per noi e per me, grazie a tutti, vai Vittorio Ragazzi penso che il pareggio con il Villaricca ci deve dare solo la forza e la cattiveria di vincere questa partita Non ci stanno altri risultati, solo la vittoria, andiamo in campo come guerrieri tutti, dall'uno all'ultimo, tutti guerrieri E prendiamoci di nuovo la venta!